Buongiorno a tutti. Bene, un paio di settimane fa si è iniziata la vendemmia nelle colline di Imola, d'intorno penso anche altre parti dell'Italia. E la parola di Dio si ricorda soprattutto dei nostri agricoltori, quelli che hanno vendemmiato, o stanno ancora vendemmiando, e viene incontro e Gesù da buon maestro si serve di questa immagine a noi molto familiare per portarci al mistero del regno, ossia usa o si serve di queste parabole per parlarci della vicenda di Dio e la casa di Israele. Nella prima lettura sentiamo una voce, voglio cantare il mio amore, il mio cantico di amore, per la sua vigna. E chi è che parla? Parla la Gerusalemme celeste, quella senza macchia, che è chiamata la chiesa ad assomigliare e modello. Cosa dice? Nara la vicenda di Dio con la casa di Israele, ossia la chiesa di oggi, oppure allaghiamo, allaghiamo, arriviamo all'umanità. E che cosa dice? Mio amore aveva una vigna sopra un cole fetele, quindi il terreno va benissimo. Poi va avanti e dice, l'aveva preparato il terreno, sgombrato dai sassi, quindi non è il problema dei sassi. L'aveva costruito la seppe intorno, come dice nel Vangelo, aveva piantato uva pregiata, quindi il seme va benissimo. Poi ha costruito una torre, scavato un tino, lasciato cadere la pioggia, quindi ha fatto tutto il bene, e non è rimasto niente che non abbia fatto per questa vigna. Ma l'amicizia si fa in due, ossia ci vogliono due per fare l'amicizia. Da parte di Dio questo, e cosa succede alla casa di Israele? Qual è il loro atteggiamento? Quello di rifiuto, di ribellione, infedeltà, e imbocano la strada che porta alla pedizione. Ma Dio è fedele, misericordioso, pietoso e magnanimo. Quindi non si ferma lì, continua, rilancia. Manda a questa casa i suoi servi, a monirli. Fate la cosa giusta, siate docili alla mia parola, seguite, così farete una buona fine, così siate uva e non acini a cervi. Ma cosa fanno? Qualcuno uccidono, altri bastonano, gli altri hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Manda ai profeti, quindi continua ad avere pazienza. E cosa fanno ai profeti? Lo insultano e li uccidono. Infine dice, io manderò il mio figlio di letto. Forse avranno riguardo di lui, ascolteranno e si rivedranno. Invece no. Questi sono proprio accaniti nel fare male. Accaniti nel seguire la strada che porta alla pedizione. E lo uccidono. Allora dice, come la prima lettura, chi cosa che non ho fatto per questa vigna? Chi cosa che dovrebbe fare che non ho fatto per questa vigna? Ne ho fatto di tutto. E allora cosa fa? Continua nella strada del male. Come dice San Pietro, la magnanimità di Dio, giudicatela come s'avversa. Non è che Dio non può agire o decidere, fare una decisione molto netta, proprio secca, sull'umanità che si ribella. E dice, va bene, avete seguito di fare male? Vi consegno alla vostra sorte. Dio non ti può condizionare oppure ti può forzare a venire, a camminare con lui o venire in paradiso. Ti lascia la loro sorte di pedizione. E qual è? Come vediamo nella prima lettura. Dice, toglierò la siepe. La siepe significa il diritto di proprietà. Quindi, fuori di Dio non sei più proprietà di Dio. Sei vulnerabile, sei deserto. crescono delle spine, le spine con tante altre cose indesiderate. Verranno animali selvatici a pascolare, a fare tutto ciò che vogliono. Quindi c'è un non senso della vita. La scelta è nostra. Abbiamo sempre due vie. La via che conduce alla felicità, che dobbiamo scegliere noi. È anche la via che ci ha preparato Dio. E c'è quell'altra, che sembra all'inizio buona, ma porta alla pedizione. È sempre quella via che il Signore ci ammonisce. Non andate qua. Quella lì fa male. Ti fa diventare, invece dell'uva, diventa l'acini a cervi. Quindi basta una parola per un saggio. Rimane sempre quella l'ammonizione da parte di Dio. Ci chiama, sollecite, ci porta. Prende con me una madre. Venite qui, che sarete meglio. Venite con me, camminate con me. Ascoltate i miei profetti. Ascoltate la mia voce e seguite la strada del bene. Quindi, facciamo gli auguri a tutti quelli che stanno ancora vendemmiando, perché passiamo dalla vendemmia di questa terra a ciò che sarà la fine dell'umanità, non al di là, l'ultimo giorno, nell'escaton. E poi facciamo festa a noi frati, che facciamo la festa di San Francesco. Allora, diciamo alla fine, che quando uno prende la strada che porta a bene, riscontrerà dei rifiuti, delle chiusure dai uomini. Non sarà una strada facile, come dice Gesù. Però insistiamo, continuiamo a camminare. Così quella frate, ultima frate di Gesù che dice, la pietra scattata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Cioè il rifiuto poi sarà l'accoglienza alla grande. Nelle mani di Dio ci siamo tutti noi. Quindi oggi ci si rifiuta. Domani si riconoscerà. E buon cammino a tutti. Pace e bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.